Cruciani da una lezione semplice ma dura alla Ferragni. Se fai beneficenza, devi mettere sul tavolo la massima trasparenza. Io sono dell'idea che la beneficenza si faccia in due modi. Uno può anche non dirlo, ma se decidi di dirlo, quando guadagni un cachet, ed è legittimo guadagnare un cachet facendo pubblicità, devi dire io incasso tot 100 e do 30, faccio un esempio, in beneficenza. Cioè trasparenza massima. Oppure l'altra strada è quella, come hanno indicato moltissime associazioni no profit in queste ore, in questi giorni, è quella di metterci la faccia e di spingere le persone a dire date questi soldi in beneficenza per questa associazione o per quest'altra associazione. Tutto il resto è pura operazione di marketing e di business. Ora è legittimo fare marketing e fare business, però lo devi dire. Cioè non puoi coprirti dietro un panettone griffato per i soldi all'ospedale, delle uova griffate per i bambini autistici, quando i soldi dati a questi bambini autistici all'ospedale sono un granello rispetto a tutto quello che hai guadagnato. Questo suona ed è una beffa clamorosa e anche un po' vergognosa nei confronti di... Poi il milione, il milione. Ma non è che è la nostra sanità. Il milione, la questione del milione. Anche il milione è un'operazione di marketing. Anche quello serve a coprire l'errore che hai fatto. A me tra l'altro suona abbastanza strano. Noi diciamo di avere la sanità più bella del mondo, quella italiana, e l'ospedale di Torino, che mi risulta essere un ospedale pubblico, dovrebbe in teoria rifiutare questo milione e dire che io i soldi li devo prendere dallo Stato, non da un privato che si sveglia la mattina col sorcio in bocca perché... Prima di continuare con il video però, vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? E decide a quel punto per coprire i suoi errori e dunque fare un'ulteriore operazione di marketing e guadagnarci ancora da questa operazione, darmi un milione. Questa dovrebbe essere un'operazione di dignità. Rifiutare il video. Solo che lo Stato non glielità. C'è un problema. Ma scusa un attimo, beh, per arrivo Klaus. Ma sicuramente questa signora è dotata di una scelta intelligente. Talento. Sì, non c'è dubbio. Sicuramente questa signora è donna di mondo, nel senso che lo sa come funziona. Perché ti metti a fare una roba del genere, una furbetina del genere? È un po' da stupidello. Hai capito che è da stupidella? Sì, no, ma ho capito. Probabilmente è stata consigliata male. Io non so quanto fosse consapevole o no di quello che stava accadendo nella costruzione di questa operazione. Ma questo non è interessante. Se siano state il suo entourage, se lei ha capito fino in fondo. Ma una donna di comunicazione come lei è doppiamente colpevole se non ha capito in che modo viene orchestrata una campagna. Ti metti a fare una robetta. Ma sai, quando uno vuole accumulare denaro e tanto denaro e ogni giorno deve mostrare... Per dell'umore della ragione. No, sì, magari commetti degli errori lo stesso. Non è che c'è un limite a questa roba qua. Quando vuoi accumulare, accumulare, non ti rendi conto di quello che è successo intorno a te. Prego, Klaus. E io...